Ieri ci siamo soffermati particolarmente sulla ricchezza del Natale mistico. Cioè il Natale inteso come nascita di Cristo nel cuore dell'uomo è una nascita che avviene sempre, continuamente, attraverso una relazione, direi, quotidiana. Ma Cristo nasce e Cristo vive dentro di me. Noi viviamo il Natale mistico quando il mio rispiro diventa grembo del Padre che nel Figlio si fa uomo per mezzo dello Spirito Santo. Ma una domanda sorge, come qualcuno dice, spontanea. Ma quando veramente Cristo nasce nel mio cuore? Quando io ho la certezza di vivere il Natale dell'anima? Non corriamo il rischio di un Natale intimistico? Cioè di un Natale che non è Natale? Perché il Natale o è incarnazione nella storia, dice Turoldo, oppure non è Natale. Allora, quando io sono certo che il Signore nasce nel mio cuore? Voglio leggervi quello che un grande convertito della storia, Giovanni Papini, ha scritto nel 1955. Papini è stato un uomo in cui veramente il Signore è nato, grazie alla sua conversione vera, autentica, radicale. E lui scriveva queste parole. Dice, questo miracolo nuovo, cioè di un Dio, di un Natale dell'anima, di un Dio che mi nasce nel cuore, questo miracolo nuovo non è impossibile, purché sia desiderato e aspettato. Ecco, torniamo alle prime riflessioni sul tempo di Natale. Cioè desiderare che il Signore nasca dentro di me per poterlo riamare, per poter corrispondere al suo amore. E poi continua Giovanni Papini. Il giorno nel quale non sentirai una punta di amarezza e di gelosia dinanzi alla gioia del nemico o dell'amico, rallegrati perché è segno che quella nascita è prossima. Il giorno in cui sentirai il bisogno di portare un po' di letizia a chi è triste e l'impulso di alleggerire il dolore o la miseria anche in una sola creatura, sii lieto perché l'arrivo di Dio è imminente. E se un giorno sarai percosso e perseguitato dalla sventura e perderai salute, chiedo scusa, e forza, figli e amici, e dovrai sopportare l'ottusità, la malignità e il gelo dei vicini e dei lontani, ma nonostante tutto non ti abbandonerai a lamenti né a bestemmie e accetterai con animo sereno il tuo destino, esulta e trionfa perché il portento che pareva impossibile è avvenuto e il Salvatore è già nel tuo cuore. Insomma, noi siamo certi che Gesù nasce dentro di me, che ho vissuto veramente il Natale dell'anima, quanto dentro di me c'è amore, c'è gioia per l'altro, c'è perdono, c'è aiuto, c'è carità. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!